Musica Vacilla la tenuta del sistema di potere siriano, il polso della situazione in questa intervista annuncia apostolico in Siria il veronese cardinale Mario Zenari. Oggi ricorre la giornata internazionale delle persone con disabilità, tante le iniziative, un appuntamento da segnalare all'incontro con Nichi Leonetti che si terrà domani alle 18.30 allo spazio Link in Borgo Roma. Il prossimo 5 dicembre si terrà un incontro online dedicato alla presentazione del laboratorio teologico pastorale intitolato Rigenerare la parrocchia verso una conversione missionaria. Ben trovati a tutti voi in questo appuntamento con Telepace News. Si è svolta ieri sera nella Basilica Vaticana la cerimonia che consente di accertare l'integrità della Porta Santa chiusa nell'ultimo anno santo in vista della prossima apertura. A introdurla con un'orazione è stato il cardinale arciprete Mauro Gambetti. Quindi i sanpietrini hanno abbattuto il muro che sigilla la Porta Santa e hanno estratto la cassetta metallica che vi era stata murata il 20 novembre 2016, il giorno della chiusura dell'ultimo giubileo, quello della misericordia. Quindi la processione fino all'altare della confessione per poi raggiungere la sala capitolare dove la cassetta metallica è stata aperta. Oltre alla chiave la cassetta ha portato alla luce le maniglie della Porta Santa, la pergamena del rogito, quattro mattoni dorati e alcune medaglie, tra cui quelle dei pontificati di Francesco, Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. Il tutto sarà consegnato a Papa Francesco e poi oggi pomeriggio si è svolta la stessa cerimonia per la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano, il 5 dicembre per San Paolo fuori le mura e il 6 dicembre a Santa Maria Maggiore. Cambiamo argomento, vacilla la tenuta del sistema di potere siriano incarnato dal presidente Bashar al-Assad e per anni puntellato dagli sforzi militari politici e diplomatici di Iran e Russia. Da giorni continuo all'avanzata dei ribelli jihadisti che dopo Aleppo hanno preso il controllo di tutta la provincia di Idlib. Sono quasi 50 mila le persone sfollate in Siria negli ultimi giorni. Il polso della situazione in questa intervista telefonica al nunzi apostolico in Siria, il veronese cardinale Mario Zenari, raggiunto al telefono da Francesca Boari. Finora a D'Aleppo c'è una calma, però una calma un po' sospetta perché c'è molta inquietudine per quanto potrà succedere perché non si sa come sarà e quando sarà la reazione di Damasco. I ribelli hanno promesso e finora non hanno trattato male la gente, anzi hanno cominciato a distribuire pane, a assicurare l'elettricità, l'acqua potabile, però i servizi pubblici sono stati disertati e quindi non si sa quanto durerà questa situazione. È una situazione molto precaria e la gente attende con ansia lo sviluppo della situazione nei prossimi giorni. Come Chiesa in questa situazione appunto molto precaria, come siete vicini alla gente? Allora i Vescovi hanno detto ai cristiani che loro rimarranno, rimarranno con loro, rimarranno i preti, i religiosi, i religiose, hanno dato questa assicurazione come sono sempre rimasti e si spera. Questi ribelli hanno detto che rispetteranno i cristiani, però è tutto da vedere. Un messaggio che si sente di rivolgere a tutta la comunità internazionale? Direi che non dimenticate la popolazione, la popolazione che soffre da 14 anni, i mali di una guerra che non è ancora terminata, soffre anche, devo aggiungere, per le sanzioni internazionali, fanno molto male alla gente. Cambiamo argomento, oggi ricorre la giornata internazionale delle persone con disabilità con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere delle persone diversamente abili. Tante le iniziative organizzate a Verona, molte indirizzate ai giovani, perché il cambiamento è nelle loro mani. Un appuntamento da segnalare è l'incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Verona che si terrà appunto domani alle 18.30 allo spazio Link di Borgo Roma con Nichi Leonetti. Maggiori dettagli nel servizio di Francesca Martini. Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile. Questo è il tema della giornata internazionale della disabilità voluta dall'ONU nel 1992. Un'occasione che non deve essere solo una volta l'anno per capire e riconoscere il ruolo importante che le persone diversamente abili hanno nella creazione di un mondo più inclusivo. Da anni a questo cambiamento di mentalità è impegnato Nichi Leonetti. Da dieci anni e più, attivo sul territorio veronese, con il suo progetto Si può fare, perché no? Che è diventato un punto di riferimento per i giovani, portando il suo messaggio in tutta Italia. A un certo punto io mi sono detto, cavolo, tutta questa fortuna, tutto questo amore, non devo mettere il ciclo, affinché a ogni persona con disabilità possa avere la mia stessa fortuna. E da qui nasce, si può fare perché no? Il mio progetto sociale, che lo portava avanti da 11 anni, come le conti su tutto il territorio nazionale. E questo si può fare, è un progetto soprattutto per le scuole, quindi se qualcuno ha bisogno mi chiami per andare a parlare di disabilità di inclusione, sia in classe che all'interno dell'assemblea di istituto. Nell'incontro organizzato allo spazio Pink di Borgo Roma, nella zona sud di Verona, Leonetti presenta il suo libro, Si può fare passo dopo passo, dove racconta la sua storia e la sua missione. Il mio progetto nazionale non è nulla di straordinaria, ma piuttosto ha una vita ordinaria. Io sono sempre cresciuto incluso, accoglato da familiari e amici, ho sempre condotto una vita all'inclusione. Una storia che passa dallo scottismo al basket per parlare di amici, di amore, di coraggio, di forza, di volontà e per dare speranza, luce e per non essere indietro nessuno. In occasione di questa giornata Gardaland e Sorte, Luz 9 e Scaligera hanno siglato un accordo di collaborazione nell'ambito del progetto Turismo Sociale ed Inclusivo, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Regione Veneto. Gardaland si impegna a mettere in atto misure specifiche per migliorare l'accessibilità del parco e garantire esperienze sicure. Inoltre, con Luz 9 e Scaligera svilupperà una serie di iniziative per sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'inclusione. Ieri il giorno di Piantedosi a Veronaco è accolto le richieste degli amministratori, dei politici e delle forze dell'ordine. La buona notizia tanto attesa riguarda l'arrivo tra questo mese e l'inizio del prossimo di 130 agenti divisi sulle tre forze di polizia. Una risposta concreta perché ha detto che questo è un territorio che merita di essere rafforzato anche per l'attrattività e la vitalità che manifesta e anche per i fenomeni che si contrappongono a questa vitalità. Riconosciuto poi dal Ministro lo sforzo fatto in Prefettura in questi mesi sia in ambito di sicurezza urbana e microcriminalità. C'è una percentuale molto alta di reati commessi ad una popolazione di immigrati irregolari per cui ci siamo dati mandato di rilanciare un'attività di rafforzare regolare e regolare il contrasto di fenomeni di radicamento di immigrazione irregolare. Il prossimo 5 dicembre si terrà un incontro online dedicato alla presentazione del laboratorio teologico pastorale intitolato Rigenerare la parrocchia verso una conversione missionaria, un progetto che vede coinvolte le comunità ecclesiali del Triveneto ma anche della Puglia e della Toscana Emilia-Romagna, offrendo un'importante occasione di riflessione sul rinnovamento della Chiesa in chiave missionaria. Vediamo. Che cosa si intende oggi per parrocchia missionaria? Perché serve una conversione? Parte da qui, da questi quesiti, il laboratorio teologico pastorale intitolato Rigenerare la parrocchia verso una conversione missionaria, un progetto che nasce da un libro con il medesimo titolo curato da Rolando Covi e Andrea Pozzobon e che prosegue in un laboratorio. Che connessione c'è tra questo termine parrocchia e missione? Beh, è una connessione strettissima oggi, una volta no, perché pensavamo appunto che missione fosse andare in nazioni, in aree del mondo non cristianizzate. Adesso il problema è che è qui la missione. Papa Francesco dice sogno una conversione missionaria di tutte le strutture ecclesiali e parla della parrocchia come luogo in cui proporre la fede, non solo curarla come avveniva prima. Prima la parrocchia accoglieva persone nate cristiane, adesso invece è chiamata a rivolgersi a persone che sono di altre filosofie, saggezze, religioni e la maggioranza che non ha più avuto una iniziazione cristiana. È un progetto, un laboratorio, un libro che vede la collaborazione di più regioni insieme? Sì, per tre anni abbiamo lavorato insieme la regione Triveneto, la regione Puglia e la regione Emilia Romagna. Abbiamo lanciato questo grande progetto di ascolto di realtà parrocchiali, ma in tre regioni differenti proprio anche per vedere le situazioni molto differenziate. Basta pensare tra Triveneto e Puglia che differenza c'è. Abbiamo lavorato con tre equip ascoltando i racconti e ascoltando i racconti delle parrocchie, le fatiche, le difficoltà, le cose positive che avvengono, abbiamo pian piano messo a punto dei criteri di conversione missionaria delle parrocchie. Primo step di questo lavoro? La cosa che abbiamo capito fondamentale è questo, essendo in un passaggio di epoca, non è un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca, dice Papa Francesco, dobbiamo accettare di rinunciare a un modello preciso. Non si tratta di passare dal modello parrocchiale che avevamo prima a uno completamente nuovo, ma di stare dentro le situazioni faticose attuali cercando di inserire germi di novità. Per questo abbiamo preferito usare il termine parrocchia generativa piuttosto che parrocchia missionaria. Ricordo che il laboratorio, accessibile liberamente su piattaforma Zoom, vedrà la partecipazione di studiosi e teologi di rilievo come Andrea Pozzobon dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Rolando Covi della Facoltà Teologica del Triveneto, Enzo Biemmi dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire di Verona e molti altri. L'appuntamento è per giovedì sera alle 18.30. È stato presentato quest'oggi nella sede del Centro Servizi di Volontariato di Verona Life Market, il nuovo e innovativo supermercato del volontariato dedicato ai giovani del territorio, sempre più attivi nel terzo settore. Mezze maniche rimboccate, farina del mio sacco, nuove sfide, vedo chiaro. Ecco i prodotti del Life Market messo in piedi dal Centro di Servizio per il Volontariato di Verona. Una sorta di supermercato dove i giovani under 30, impegnati o che si vogliono impegnare a vario titolo nel volontariato, acquisiscono e non acquistano autostima, mentalità aperta, voglia di fare, smalto e molte altre abilità. L'idea parte dai giovani per tornare ai giovani, il nostro futuro ma anche il nostro presente, così come da sempre si impegna a fare il Centro di Servizi per il Volontariato di Verona. Che cosa vuol dire avere un supermercato di questo tipo? È un buon modo per comunicare a dei giovani che vogliono approcciarsi al mondo del volontariato per riflettere su cosa si può dare facendo queste azioni e cosa anche si può ricevere a livello personale. Questo Life Market, questo strumento del volontariato dedicato ai giovani, arriva proprio in concomitanza con la giornata del volontariato del 5 dicembre. Questo strumento, che punta a divenire virale sulle piattaforme più utilizzate da giovani e giovanissimi, vuole non solo dare visione di quanto proposto nel terzo settore, ma anche raccogliere spunti proprio dei ragazzi per avvicinare sempre più il mondo del volontariato a loro. Perché ritieni interessante e importante fare un'azione di volontariato e raccontarla alla gente della tua età? Ritengo sia importante perché comunque facendo parte di questa società un po' tutti facciamo parte di quello che succede e penso sia importante sensibilizzare qualsiasi età e qualsiasi fascia e unirsi e creare una comunità dove ci si voglia più bene e dove sia anche più facile collaborare tra di noi. E con questa notizia termine il nostro appuntamento con informazioni. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i programmi di Telepace. Grazie a tutti.